Non volevo ucciderlo, l'ho colpita alla gola con il coltello in un raptus di rabbia. Queste le parole del 32enne romene poliziotti dopo l'aggressione a un coetaneo connazionale, ieri pomeriggio a Mestre, nel bus a CTV in sosta al terminal nel piazzale dell'ospedale dell'Angelo, di fronte alla proteneria. Il romene, inseguito dopo il fatto, verso le 16.30, dai poliziotti delle tre pattuglie delle volanti che dopo aver sentito diversi testimoni lo hanno fermato in evidente stato di shock mentre scappava sempre a lungo via Paccagnella con le mani e vestiti ancora sporchi di sangue. L'accoltellamento con un colpo dritto alla giugolare scaturito dopo una violenta lite per futili motivi. Oggi l'accoltellato si trova sempre ricoverato in rianimazione nello stesso ospedale dove verrà tenuto in osservazione ancora per i prossimi due giorni, dopo i quali verrà sciolta la prognosi. La vittima, dopo il fatto, è stata subito soccorsa e immediatamente operata verso le 17 per salvarla da morte per dissanguamento. Delicatissimo l'intervento e protrattosi per più di quattro ore. Per il suo aggressore si attende ora la convalida del fermo che si tramuterà per lui in arresto.